Sicuramente sì, nell'età adulta, nella maggior parte dei casi, il malassorbimento per il lattoso è provocato da una patologia intestinale preesistente, come le mici, patologie che vanno a distruggere l'integrità della mucosa intestinale, distruggendo da un lato le cellule che producono le lattasi, dall'altro le cellule deputate all'assorbimento, per cui quando si associa infiammazione, deficit di lattasi e deficit di superficie assorbitiva, si verifica il malassorbimento.